È chiaro che l'ILVA così com'è non va, va cambiata radicalmente e profondamente. In un convegno che abbiamo fatto nel 2013 già abbiamo detto che sono essenziali le innovazioni tecnologiche ed è possibile. Io mi trovo di fronte a due file di persone quasi tutti i giorni, quelli che mi chiedono un intervento rigoroso sulla salute per dire uno stop serio, forte, totale. L'ho fatto nel rione Tamburi all'inquinamento e poi un'altra fila di persone che dicono ma noi perdiamo il posto di lavoro. Perciò io dico una trasformazione radicale è quella che noi auspichiamo e poi la conservazione dei posti di lavoro che non ci siano esuberi ma non solo per gli occupati nell'ILVA ma anche per quelli dell'indotto.